Ola, ci sono i test stagionali a Gerez, li salto per andare subito alle mans, però prima c'è da scegliere lo sviluppo, no, maneggevolezza, ma erogazione controllata non mi interessa. Allora, la moto spec A rimane uguale, la B aumenta erogazione controllata e penetra, no, si rimane sulla A, non faccio neanche i test. Termina, rimaniamo sulla A. Allora, cos'è questo? Non perdere il passo. Io più di così, partire terzo ma per millesimi, sarà difficilissimo iniziare al mondiale. E adesso poi partenza su bagnato. La bestia è pronta alla fuga. Si è impennata la moto. Eh, va bene, che devo fare? Passa uno lì, dai, su, le due palle. Sì, doppio crash, ma dove? Sì, è iniziare al mondo. Sì, è iniziare al mondo, no, no. Sì, è iniziare al mondo. Allora... ... ... Grazie a tutti. 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 Sto guidando bene piano. No. 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 Allora non c'è la pioggia Però sono sette giri Quindi media No qui consiglio al sole No no Troppo lunga Ci arriveremo mai Il problema è la partenza È la partenza Non la so fare È già meglio stavolta Però Infilano ovunque La pioggia è un pc Non c'è la pioggia Non c'è la mangiare Grazie a tutti. No, non ci sto dietro mai, mai! Sto sbagliando tutto! Sto sbagliando tutto! Sto sbagliando tutto! Che palle ho! caduto caduto bagnaia posizione non ceduta la pena ho capito ah è indietro aspetta ma ando indietro ma dove cazzo è? ma non è qua ma che cazzo dico? dai madonna però che mi fa distrarre mi faccio sto penalty del cazzo boh non c'è niente da fare quando non cambia un cazzo neanche così dai l'accento è uguale all'adattiva vanno sempre più forti dai qui Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guarda come scivola sta moto, è la 7 sbagliata, non è la moto, perché nell'altra fa' che si andava bene. Scivola e frenate a il posteriore. guarda che roba non riesco a prenderla a llamar la llamar che non va a un cavo 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 che schifo di moto di assetto di merda assetto di merda fanculo la bagnaia si è ritirato così guadagna pochissimo ma 14 un punto guarda eh guarda le medie guardale come medie distrutte gli altri che partivano con le soft guarda come vanno ma non è reale fa schifo è un arcade del cazzo questo gioco ma è scandaloso questo gioco Grazie a tutti. Sì, ho capito. Se tocco il freno di Ezo scivola. No, stavolta non l'ho toccato. Basta, è una pista peggiore per me. Con la fine della gara della... A presto. Grazie a tutti.